Loro hanno due fratelli che si esibiscono in America perché il loro numero è un numero maschile per quanto riguarda la potenza muscolare necessaria per poterlo fare. Però loro sono bravissimi e riescono a farlo lo stesso e per questo hanno vinto un premio, il clown d'argento nel 1981 in quel di Monte Carlo. Allora, signore e signori, Alexis Sisters! Allora, signore e signori, Alexis Sisters! Allora, signore e signori, Alexis Sisters!